Gran Caffè La Fenice, bar, pasticceria, gelateria. La tradizione e la storia, la qualità dei nostri dolci per soddisfare i palati più fini e per festeggiare le tue ricorrenze più care. Rosticceria Stuzzicheria Pausa pranzo, menu ad 8 euro con primo, secondo e contorno. L'eccezionalità dei nostri cocktail, creatività e professionalità. Rivellita tabacchi I nostri appuntamenti Dal lunedì al venerdì è Piauer vino a soli 6 euro. Salumi e formaggi scelti accompagnati da un buon calice di vino dalle ore 17 alle 21. Mercoledì è Piauer trip, libita a 5 euro, la stuzzicheria calda, te la regaliamo noi. Giovedì, Spritz Party a 5 euro dalle ore 17. Venerdì, cuccia o panino o piadina più bevanda, 5 euro. Sabato, Preserata Fenice, il tuo coppio è la scelta a 3,50 euro. Start ore 22. Gran Caffè La Fenice, via Mediterraneo 30 Taranto. Come sentirti a casa? Fai la differenza, regalati il meglio! Grazie a tutti! Grazie a tutti.